Sì, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Oggi c'è un bloccato Quale si passa? Quale si passa? Non fa un altro giro Dai, se ce l'ho fatto il giro In pratica ce l'ho ricevuto Ok Faccio il giro, faccio il giro Dobbiamo controllare però Se arriva qualcuno da qui No, no, ci sono i nostri Ah, ok Cosa? Eh, di qua Eh, non me lo ricordo Troppo grosso Oggi qua No, no, no Ok Oh, oh, oh... Voi... Voi... so resi Brieggio Vassa la a presto Gianni Gianni Iceman Fornanghi Iceman C'è una due video Gianni Da la porta Da la porta Guardi Di là per il bloccato Non ti passa Da di fuori Di là per il bloccato Di là Di là Di là Di là Di là Finna ma sei morto Di là 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 Poi, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è.